eh eh geniof bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e sono Arrow inizio dicendovi che su questo canale troverete molti giochi eh eh geniof 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 tra cui questi giochi quindi minecraft, left for dead 2 payday 2 se anche games mod e pronto type 2 quindi ragazzi il video finisce qui è durato poco però il tempo basta per dare tutte le informazioni sul nuovo canale il prossimo video mi sa che uscirà un Angel Games di minecraft quindi godetevelo e bello a tutti ragazzi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao